ok ragazzi dovreste vedere lo schermo stiamo registrando con zoom quindi qui partiamo con le basi prendo di spunto il sito mi sposto qua sotto per darvi tutte le informazioni necessarie su quello che sono il prodotto le vende il modo di venderlo lo vedremo appunto durante tutta questa questo piccolo corso dedicato a voi allora partiamo dall'inizio come sapete allora experience on the road è un'esperienza di gioco che fonde l'escape la caccia al tesoro nelle città e non solo le città ma lo facciamo anche nei borghi lo facciamo anche all'interno di strutture però principalmente in tante città italiane a oggi siamo in più di un centinaio di città ok con percorsi appunto di a partire da 90 minuti e siamo anche nei borghi di strutture come Chianti Lang e Monferrato ok quindi questo partendo proprio dall'inizio allora quindi nella home page abbiamo l'informazione base che cos'è experience on the road quindi experience on the road è un escape room fusa a una caccia al tesoro che appunto come dicevo prima in italia nei vari borghi il campo di azione dei clienti sarà sempre il centro storico della città che andranno a scegliere ogni città sappiamo bene che ha un tema diverso quindi a Milano c'è un determinato tema a Torino c'è un altro a Cagliari c'è un altro a Palermo c'è un altro così per tutte le varie città alcune di loro hanno anche più di un tema quindi poi andremo a vedere anche questo tipo di aspetto perché hanno più di un tema perché alcune città è stato deciso di creare vuoi per un cliente in particolare vuoi per un team building di creare altri altri percorsi o altre storie magari sullo stesso percorso quindi sullo stesso sulle stesse missioni di gioco sugli stessi monumenti i clienti cosa sanno sanno che il gioco funziona in questo modo viene creato un gruppo whatsapp con i nostri clienti uno o più gruppi in base al numero delle persone questo gruppo se ci serve appunto da fare la connessione tra noi e loro per qualsiasi informazione che abbiano bisogno durante il gioco ok oltre a questo i clienti cosa fanno scaricano un'applicazione gratuita che è il loro diario di gioco dove all'interno di questa applicazione che attualmente si chiama Trello l'applicazione loro vedranno tutte le missioni vedranno il video di benvenuto vedranno tutto quello che è il gioco durante la loro esperienza ok questa esperienza lo vedremo poi in un altro video più dedicato può essere personalizzata o può essere acquistata con tipologie di pacchetti diversi che andremo poi a vedere insieme ok il cliente quello che può fare è durante la partita appunto vivere sicuramente appunto un'esperienza unica e potrà decidere il giorno e l'orario ok ma questo poi vediamo un attimino in che senso e in questa parte della home del sito abbiamo inserito quali sono le possibili città di gioco che fanno riferimento appunto a tutte le città che ci sono attive attualmente e anche a tutti i percorsi attivi infatti città di gioco viene riportato anche nella parte alta nel sito sempre dopo la home la parte dedicata agli eventi speciali che vuol dire tutto ciò che riguarda gli addi al nubilato gli addi al celibato i team billing tutto quanto ok poi vedremo appunto le varie informazioni qua sopra la possibilità di prenotare un'avventura e ci manda direttamente all'acquisto ok e poi ci viene dato le informazioni su cosa è disponibile noi facciamo giocare tutti i giorni 10 di mattina 22 orario italiano ok perfetto informazioni del sito che tipo di servizio creiamo il fatto che siamo appunto un servizio che nasce dalla nuova forma di trattenimento dedicato appunto sia a famiglie gruppi di amici e quant'altro ma il nostro focus principale io parlo come azienda il focus principale sono le team building e gli addi al nubilato nel vostro caso sarà soprattutto dedicato al discorso di building per un semplice motivo che di base ci portano un fatturato diverso partendo però dal zero il gioco parte con la giocata per le singole persone da 90 minuti città 90 minuti mystery tour che poi vi spiego meglio cosa sono tre ore quindi queste due categorie sono le due di base ok qual è la nostra visione poi andate a vedervi la home che tanto ve l'ho inserita nel link sotto questo video e poi la divisione dei vari delle varie categorie degli event details che sono appunto i team building come vi dicevo prima le abbiamo inserite qua nella home e varie recensioni di ciò che dicono di noi e le script challenge che poi vi racconterò che cos'è ok alcuni clienti che hanno scelto che ci hanno scelto e poi andremo a rivederli insieme per un discorso proprio di connessione con chi ha già avuto modo di lavorare con noi e di fare il team building magari andare a riprendere questi contatti ok quindi questo semplicemente dedicato alla home a oggi quindi questo è il primo focus che vi voglio dare cosa facciamo perché lo facciamo e come lo facciamo ok ultima cosa di questo video iniziale introduttivo semplice semplice e prepariamo anche di social nella nel sito le varie voci la home abbiamo visto adesso che è l'unica che voglio farvi vedere in questo video parleremo nel prossimo video di città di gioco cosa sono cosa sono i misteri tour che cos'è il viaggio x3 quali sono gli eventi la sezione luxuri la sezione regali prenota cui il magazine e contatti così andremo a vedere nel secondo video tutte queste voci ok io cerco veramente di farvelo super chiaro se c'è poi delle domande me le fate direttamente sull'altro gruppo whatsapp ok ci aggiorniamo al secondo video grazie a tutti